La Cremonesa occhio, la possibilità di contropiede con Emers che si butta dentro, Carretta lo cerca con il tocco d'esterno, Emers c'è Castrovilli che si butta dentro sull'altro lato del campo, Emers cerca allo spazio per il cross, il cross di Emers, Paoligno! Paoligno decolla sull'assist di Xian Emers e inchioda alle spalle di Cerofollini.